Arrivederci. Marina? Sì? Ecco, ora le propone un casting. Un che? Avete chiarito? Non ancora. Hai detto non ancora perché vuoi chiarire? Ma non ti senti un filino invadente? Certo, mi rendo conto che vi fa comodo avermi tra i vostri studenti. E' proprio questo il tipo di atteggiamento che non tollero. Beh, mi spiace, ma con il mio cognome e i miei followers direi che vi faccio un'ottima pubblicità. Ci farei un'ottima pubblicità quando imparerai che cosa è l'umiltà e sarai almeno un minimo in grado di recitare. Nel frattempo lavoro in gruppo. Scegli dei compagni. Ah, ciao! Ciao! Eh, posso chiamarti Stellina? Scusa? Lucio! So che cerchi un gruppo per lavorare. Sì, va bene. Lucio, ne dovevamo discutere insieme. Se ti senti minacciata, nessun problema. Minacciata? No? Va bene, allora sto con voi. Ma che ci faccio alle donne? Se non ti chiamo io, tu non mi cerchi mai. Ma che dici? Io? Sei tu che non vuoi! Allora è inutile. Io voglio lavorare a Napoli. Ma non ce l'ha uno per noi. A me non me ne frega che tu sei di Napoli e vuoi vivere a Londra. A me piace Napoli. Che storia assurda. Shhh! Ma è possibile che non riusciate mai a fare i fatti vostri? Ma anche tu che senti a loro, vero? Certo. Ma io ho buon gusto di non intromettermi nelle faccende che non mi riguardano direttamente. Ma quando parla lei, soli mi sentono fallita e una cosa in generale. No, è una cosa tua. Mi ama. Sofia, possiamo parlare?